Domenica 7 giugno 2020, è il 159esimo giorno dall'inizio dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale dei gemelli. La chiesa ricorda San Landolfo Vescovo di Asti. L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Landolfo. Il nome ha origine germanica e significa vittorioso. Il numero porta fortuna è il 2, il colore è il verde e la pietra è lo smeraldo. Accadde oggi. Il 7 giugno del 1993, Prince cambia il suo nome con un simbolo e diventa The Artist Formerly Known as Prince, ovvero l'artista precedentemente noto come Prince. Chi è nato oggi? Tra i personaggi famosi nati il 7 giugno, ricordiamo il presentatore Pippo Baudo e l'attore Enrico Montesano. La citazione del giorno. La mente mette i limiti, il cuore li spezza. Jim Morrison. Dice il saggio. Più vuota è la testa, più lunga è la lingua. Il bel paese. Tra i luoghi simbolo della città di Milano c'è la Rotonda della Besana. Si tratta di un complesso tardo barocco, costituito dalla chiesa di San Michele ai Nuovi Sepolcri, oggi sconsacrata, che si erge al centro di un'area delimitata da un lungo porticato chiuso. Inizialmente nacque come sepolcro dell'ospedale maggiore, poi, quando per motivi sanitari i cimiteri vennero spostati al di fuori delle mura cittadine, cambiò diverse destinazioni d'uso, diventando di volta in volta caserma, fienile, cronicario e lavanderia dell'ospedale, fino al 1940. Oggi è proprietà del Comune di Milano ed è usata come spazio di verde pubblico e spazio espositivo per mostre temporanee ed eventi culturali.